L'amministrazione comunale di Galatone piange la scomparsa di Carlo Campeggio, 44 anni, consigliere di maggioranza con delega alla protezione civile. Eletto nella lista, Galatone protagonista da tempo si dedicava alla vita politica e amministrativa della sua città, prima di essere colpito da un infarto nella notte che non gli ha lasciato scampo. A dare il triste annuncio della morte è stato il primo cittadino, Flavio Filoni, sui social «Ciao Carlo, amico mio», scrive il sindaco. Seguito poi dai consiglieri di opposizione che su Facebook si dicono addolorati per la prematura ed improvvisa scomparsa del consigliere Carlo Campeggio ed esprimono profondo cordoglio a tutta la famiglia. Tra i tanti commenti e ricordi anche l'Unione Commercianti di Galatone, i commercianti si stringono al dolore dei familiari esprimendo profondo cordoglio una scomparsa, commentano. Davvero prematura che ha lasciato tutti i sgomenti.